La sfida di questi anni è particolare perché dopo 50 anni di evoluzione dell'industria turistica sembra quasi che tutto stia per essere rivoluzionato, è come se dovessimo reinventarci completamente tutto dall'inizio perché l'avvento di Internet e quindi di queste grandi aziende online e soprattutto il cambiamento degli scenari mondiali fanno sì che tutto quello che si è costruito in questi anni debba essere rimesso in questione. Che cosa sto pensando per quanto riguarda la mia realtà, il quality group? Sto pensando a dare un ulteriore impulso quasi maniacale direi alla specializzazione e ai processi artigianali, in un mondo in cui tutti sembrano in grado di offrire turismo in tutti i modi, in tutte le salse e con tutti i mezzi, credo che l'unico modo per non essere bypassati, per poter offrire qualcosa di veramente originale, che possa stare nel tempo e avere la sua dignità, sia quello di creare dei viaggi che siano non imitabili, dei viaggi così personalizzati, con una cura così attenta dei dettagli, dei particolari e degli aspetti anche culturali più profondi dei paesi che andiamo a proporre, possa essere quella vincente, in modo tale che potremo stare tranquillamente con tutta la nostra dignità accanto ai fornitori di prodotti più di massa o più generalizzati. Per fare questo evidentemente c'è bisogno di una struttura che sia anche questa rivoluzionata, non tanto una struttura tradizionale quanto una struttura ramificata, divisa in diverse aziende imprenditoriali estremamente elastiche e flessibili con a capo dei veri e propri geni del turismo, geni specializzati nelle loro poche destinazioni. Credo che un gruppo di imprenditori così motivati, così specializzati e così liberi possa veramente essere la risposta giusta e direi anche molto italiana alle sfide della globalizzazione del turismo.